Sono state demolite le strutture a due passi dal Duomo che costituivano gli allargamenti in muratura dell'ex teatro dell'Oriolo a Firenze, realizzate in maniera confusa negli anni 50 di fronte alla Biblioteca delle Oblate. Baracche fatiscenti che occupavano circa 300 metri quadrati e che ora lasceranno il posto a una piazza giardino interna a vocazione culturale, mentre il vecchio palcoscenico sarà recuperato per diventare teatro digitale. È il progetto da 600 mila euro che ha preso il via con gli interventi di abbattimento e proseguirà adesso con le opere di ricostruzione. Chiuso da quasi 30 anni in stato di abbandono, il teatro dell'Oriolo ha rappresentato una delle più attive realtà teatrali del dopoguerra fiorentino. Ospitato dal 1951 al 1993 al piano terra del Palazzo Bastoggi e in particolare nel cortile, si è rivelato impossibile da mettere a norma e conservare e sono state quindi demolite andando a ricreare l'originario spazio aperto, adatto ad allestimenti e manifestazioni. Per l'attrezzatura del Digital Teatrum potrà essere pubblicato un avviso pubblico per raccogliere l'interesse di privati alla gestione di quell'area. Nella piazza Giardino, su un'area triplicata rispetto a quella originaria, grazie all'abbattimento di volume, sarà realizzato uno spazio multifunzionale e una grande ruota cinematografica. Nei locali dell'ex scena invece nascerà proprio il Digital Teatrum, un luogo fisico attrezzato con strumentazioni digitali per permettere a cittadini e visitatori di sperimentare in modo diretto le arti digitali senza la mediazione di uno schermo.